Ho bisogno di qualcuno al mio fianco e quindi ho il piacere e l'onore di chiamare qui davanti a tutti il cofondatore della Real Italian Wrestling, nonché vicepresidente e altresì campione italiano e grand champion Italian Tiger! Grazie di essere arrivato, Italian Tiger, come vedete non si ha chiuso a prendere le cinture perché ne punza il bizzef e adesso vi lascio la parola per spiegare cosa facciamo e perché c'è questa serata Intanto ringrazio il gruppo e soprattutto l'Universum Media che ci sta mandando in diretta streaming noi siamo la Real Italian Wrestling che è una realtà che a Messina c'è da più 10 anni la nostra palestra è qui a Tora Fitness 24, di fronte alla storia dell'ora Trento e siamo contenti di poter offrire a un pubblico che ci guarda e che ci segue nello spettacolo di accademia con i nostri migliori allievi quindi io spero che tutti voi che ci seguite possiate godervi delle nostre attività invitiamo tutti voi a partecipare, a venire e a provare le lezioni gratuite perché i corsi che tutta l'equipe della Real Italian Wrestling mette in scena questa palestra sono contento di rappresentare il direttivo della RIF come campione e come soprattutto allenatore dei ragazzi spero possa piacervi questo spettacolo grazie, grazie Italian Tiger